La contraffazione è diventata nel mondo del vino un problema, soprattutto negli ultimi anni la Borgogna è stata vittima di falso. Abbiamo cercato dal 2014 un sistema per garantire al consumatore l'autenticità delle bottiglie. Dal 2016 abbiamo applicato un sistema a base di microchip molto avanzata, che sembra quasi futuristico, per garantire questa autenticità che con un smartphone si può controllare facilmente se la bottiglia è la vera o è un falso. Ovviamente questa tecnologia fatta dall'azienda OREF è per il momento molto avanzato, ma creerà nel futuro altre possibilità che possono diventare anche delle informazioni utili per il consumatore.